Una persona vale quanto la sua parola. Pensate un attimo al significato di questa frase. Qualcuno potrebbe interpretarlo col fatto che se uno rispetta le cose che dice vale, ma non è così. La verità è che una persona vale quanto la sua parola perché la parola è il momento fondamentale della vita, quello musicale, quello grazie al quale ci annunciamo e alla fine noi valiamo quanto e come, con che qualità, con che quantità, con che attinenza usiamo la parola. Il migliore è quello che pensa che i dubbi sono più importanti e le certezze, che è disposto a cambiare idea, è disposto a cambiare strada, si rivela in maniera moderata, non pensa che chi la pensa diversamente da sé è un cretino o un disonesto per forza, e di fronte ad un problema la prima cosa che penso è cosa posso fare io per il bene comune, per il mio bene ma insieme anche al bene comune. Peggiore è il contrario, i cosiddetti paraculi, di fronte al tema da svolgere, la prima domanda che si fanno è come ne uscirò io, che figura farò io, sono pieni di certezze, i perfettini non hanno fiducia perché cercando la perfezione non possono averla perché la perfezione non c'è, non la troveranno mai, non troveranno mai una cosa che non esiste. Bene, servono parole nuove per un pubblico nuovo che affronta nuovi mercati e l'obiettivo è ottenere nuovi risultati. Che cosa fa la parola? La parola precede i comportamenti e molto spesso giudicano il nostro comportamento già dalla parola e alla fine si esplica in azione, l'azione, questo è il processo, parola, comportamento, azione. Ma che cos'è che genera la parola? Il pensiero. E che cos'è che genera il pensiero? Il sentimento. Ecco, questa secondo me è la filiera della nostra vita. Come in agricoltura, come nel cibo, il mio mestiere, pensateci un attimo, il mio mestiere è il cibo. E la filiera è agricoltura, trasformazione, cucina, piatto. Chi non capisce di agricoltura non può capire di cibo. Chi non capisce di trasformazione, chi non capisce di cucina, per godere mangiando il cibo, poi ne parleremo, dobbiamo sapere da dove è nato, chi l'ha fatto, se ha usato concimi di sintesi, se ha usato erbicidi e poi come è stato trasformato, se ha usato polifosfati, eccetera. Così nella nostra vita, se non ci occupiamo di sentimenti, non possiamo avere parole nuove. Bisogna partire da lì. Sono andato a prendere delle frasi in momenti storici diversi da umanità per cercare di capire quali erano le parole vecchie e le parole nuove. Siamo nell'800 d.C., 800 d.C., quindi siamo, chiamiamolo il passaggio dall'alto al basso Medioevo. Una roba del genere, Medioevo. E in Europa, sapete com'era, c'è stato solo un momento di grande glamour. Carlo Magno è durato anche abbastanza poco perché è riuscito a mettere insieme un po' di confini, ma poi la sua morte, poco dopo l'800, è andato tutto di nuovo a catrafascio. Sentite cosa dice Carlo Magno. È una frase di due periodi con 28 parole. Dice Compito mio è difendere la Santa Chiesa con le armi, contro ogni attacco dei pagani e ogni attacco degli infederi e consolidarla nell'interno con la professione della fede cattolica. Sembra un trattato dell'Isis o Isis. Più o meno, il linguaggio è questo. Adesso vi leggo che cosa dice nello stesso anno, 800 d.C., un altro grande, si chiamava Li Bai, era il capo della dinastia Tang, governava la Cina. E guardate come descrive il suo mondo. Il mondo è pieno di piccoli piaceri. L'arte consiste nel distinguerle. Dovete sapere che nell'800 d.C. l'85% del PIL, della ricchezza era in Cina, la nazione immensamente più ricca di tutto il pianeta, ma immensamente di più di quanto lo è oggi gli Stati Uniti d'America. In tutta l'Europa c'era il 15% del PIL. Sapete perché? Perché a dire certe parolacce, certe parole come sopra, si resta poveri o si diventa poveri. E a pensarla come Li Bai si diventa ricchi. Carlo Magno esprime il suo concetto con 28 parole e due periodi. Guardate l'incipit, parla di sé, compito mio e poi parte. Guardate l'altro, il mondo è pieno di piccoli piaceri, l'arte consiste nel distinguere. La domanda che vi faccio è, da chi dei due comprereste qualcosa? Io credo che non ci siano dubbi. Finora abbiamo raccontato un abbigliamento solo bello brutto. Madonna, si può raccontare di una maglia tantissimo. Se il cotone organico GM free, se è stato fatto con 27 ditte d'acqua al 2700, se è stato colorato e si può fare con fiori, frutta, verdure e non con chimica. Come sono stati sei l'ana, come sono stati trattati gli animali, eccetera. Cosa si può raccontare di un mobile, di un divano? Non solo più bello brutto, design non design. È freddo quello, sono d'accordo, quello è freddo. Racconto come è nato, in che foresta è stato preso, perché quella foresta è deforestabile, perché non ha dato danno al pianeta, eccetera, eccetera. C'è una marea di robe da raccontare. Noi italiani siamo bravissimi con le mani, i numeri uno al mondo, la più grande manifattura del mondo. Siamo anche stati capaci a trasferire il movimento, chiamiamolo analogico, in digitale. Siamo i più bravi a costruire le macchine di precisione del mondo, numeri uno. Siamo i più bravi a fare tutta la serie di robe. Dico sempre per dire che siamo i più bravi a prendere una nave da crociera e a farla naufragare sullo scoglio, però poi siamo anche i più bravi a tirarla su. Abbiamo, che era difficilissimo, hanno chiamato ingegneri italiani. Dovremmo specializzarsi più nella seconda che nella prima. Per quanto riguarda la parte narrativa, basta studiare il nostro paese. Ci vengono in mente tutte le parole per narrare qualsiasi cosa. Basta studiare, approfondire, andare all'origine, tracciabilità al contrario. Seguite se ne avete voglia questa mia idea della filiera. Dietro un prodotto c'è una filiera, come c'è nella nostra vita, sentimento, pensiero, parola, comportamentazione, così c'è. Tu puoi andare da qualsiasi prodotto, andare a capire le origini per raccontarlo e incominciare con parole nuove mettendoci un po' di poesia. L'economia diventerà digitale, la società diventerà digitale. Dobbiamo essere capaci a trasferire da online a online tutto. Tanto manteremo una grande vita online. Vi dico una roba molto sentimentale che c'è nel mondo online. Wikipedia. Wikipedia è una meraviglia che nasce da un uomo pieno di sentimenti. Intanto è fantastica. Han provato di tutto. Hanno fatto anche una gara, cento scienziati contro Wikipedia, ha vinto il 98-2 Wikipedia, che dimostra la potenza del branco. Wikipedia è una meraviglia assoluta e che ha deciso di farlo. Non ci fa la pubblicità, non ci segue, non ci prende i dati, non ci rompe le balle. Viva Wikipedia. È il grande sentimento applicato nella rete. E così possiamo fare con una marea di altre robe. Il tema è che questi signori, lo racconta benissimo Baricco in the game, questi signori che hanno inventato quel mondo come gesto di ribellione contro l'elite del Novecento, quell'elite pazzesca che aveva portato il fascismo, il nazismo, anche la prima guerra mondiale assurda. Come gesto di ribellione per creare più democrazia, per dare più comunicazione, per diffondere verità in fretta a tutto il mondo, per eliminare le intermediazioni, una meraviglia, poi loro stessi, se ne dipende il negativo, si sono resi conto che ha i suoi cavoli amari, i suoi casini. Per esempio è un grande tema oggi dei dati. Per quello che io chiamo sconcerto digitale. La gente per bene, normale, prova una sorta di sconcerto nel mondo digitale. Una è quella di questi qui che parlano come fossero al bar, ma moltiplicato per dieci come cattiveri, eruenza, parolacce, dicono delle robe ignobili, hanno trovato il loro nuovo bar con questa possibilità di andare nel mondo. L'altra è quella dei dati, che ti seguono, sanno dove sei, sanno tutto quello che hai fatto, conoscono perfino i tuoi sentimenti, dalle scelte che tu fai andando sui vari siti. E come li usano questi dati, come li useranno? E quindi questi ragazzi, che sono usciti da una fiaba dei loro garage, neanche tantissimi anni fa, devono ricordarsi di essere usciti da questa fiaba. E devono approcciarsi al mondo del digitale. Io francamente sono di quelli che penso che ci sarà una rivoluzione in questo senso. Cioè noi utenti riusciremo a fare in maniera che questo mondo migliori. Intanto non può esistere un minimo di antitrust, cioè non può esistere che sia un'azienda che ha l'86% del mercato mondiale dei motori di ricerca. Meravigliosa, io li adoro, grazie a loro. Sono dei giganti, bellissimi. Però forse bisognerebbe ampliare l'offerta, fare in maniera che anche gli altri si diranno a fare. Quello che dobbiamo fare è trasferire un sentimento vero nel mondo, da online a online. E si può fare, tecnicamente. Io dico sempre ai miei ragazzi, adesso per Italy, ai miei ragazzi dei miei figli, perché io non mi interesso più, cercate di trasferire. Io mi rendo conto che è difficile provare odori, sapori. Chissà, ci arriveremo. Oggi c'è delle robe che se mi avessero detto che ci saremmo arrivati vent'anni fa, mi hanno detto che non ci credo neanche molto. E poi adesso che arriveremo anche lì. Ma di sicuro le emozioni possiamo trasferirle. Dobbiamo, persone brave nell'online, entrare presentemente nel mondo online e cercare di addomesticarlo. Chi sono i giusti? Ve li faccio descrivere da Borges, perché non è il caso che tu diventi Obama per essere giusto. Non è il caso che diventi Nelson Mandela per essere giusto. Non è il caso che diventi, ai miei tempi Van Basten, oggi non ho più seguito i grandi crescitori. Non è il caso che diventi Baricco per essere giusto o Umberto Eco. Puoi svolgere qualsiasi tipo di lavoro e essere giusto. E sentite Borges con che delicatezza racconta questa categoria. La categoria delle persone disposte a cambiare idea. La categoria delle persone che hanno dei dubbi. La categoria delle persone che colgono felicità nella stare degli altri e vedere il meglio degli altri. Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire. Chi è contento che sulla terra esista la musica. Chi scopre con piacere un'etimologia. Due impiegati che in un caffè del sud giocano in silenzio agli scacchi. Il ceramista che intuisce un colore e una forma. Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace. Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto. Che accarezza un animale addormentato. Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto. Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson. Chi preferisce che abbiano ragione gli altri. Tali persone che si ignorano. Stanno salvando il mondo. Stanno salvando il mondo. Grazie.